Dove abiti qua? Qui dietro, è una casa in vendita, io abito in lì, io vengo la casa in vendita, quando si venderà tu te ne andrà? Eh sì, è Francesco, a sua prenda, Francesco, perché non è venuta, perché molte la vengono a vedere, madonna mia, infatti l'ultima volta, quando è stato? Ha redata l'hai presa? No, non è ha redata, ci sono solo due armadi, che non è, tipo, è un cavo, diciamo, ha qui, due armadi, c'era un letto che lo stasso un toglie, non me lo volevi, hai capito che la mamma? Eh sì, eh sì, sono in casa qui, da molto che sei da qua, qui? Io sono in finale, allora io ho origini parecchi, ma io ho passato a trasferirlo, sì, piccola ancora, però ho lavorato e vissuto a connessa, ho lavorato e vissuto a connessa, senza ancora fai filare tutta la dettata, so che c'è una cosa, io ho portato a connessa, mi aspetta a connessa, che vuole andare, non riesce a倒are, soltanto c'è una cosa, non riesce a guardare, che la voglia kollega la cosa, miei genitori hab therapy? No, io non ho, não, o mi Hills, ma mia giusto, a volte.... bleira a party. Perché sono fatte più tranquilli rispetto alla città, sta bene, è rispetto a me forçar la canzone, Perchè io solo sei che è stato un po' di città, ma dove trovavo lavoro?